che è un regionale un regionale non capito tutti in fila in cosa aspettare regionale non sappiamo che c'è il regionale è qua al cinema non è semplice no in caso potrei passarsi lo sparti da manuale bravo 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 testo sefalo sono passati due amici induristi 5 uno sulla latra va 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 bene è arrivato un vito senza moto ma dov'è? a rio a rio a piedi guarda lì 5 uno spito bravo bravo non ti faccio vedere più oh Sampi non ti faccio vedere più sto aperto a cazzino e basta è un po' di due raglie perché c'è un po' di due raglie perché c'è un po' di due raglie ok io non ti faccio vedere più forte da un po' di 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 da lui troppo pelo troppo pelo troppo pelo troppo pelo sono lasciato prendere da pelo appena sentito pelo è andato eh sì ehi Che fischia perusca!